Verso le serre di Montevergine, a circa 6 km di distanza da Torcito, via il borgo di Anfiano. Ciò che si trova oggi è un insieme di ruderi situato in aperta campagna molto lontano rispetto al centro del paese. Più che un insediamento masserizio, Anfiano fu un casale medievale, la cui storia si perde nella notte dei tempi. Anfiano, pur essendo sorto nei pressi della via Calabra, era una realtà assestante rispetto agli altri borghi. Il suo nome, di chiara derivazione greca, significava proprio isolato. Furono i Romani a sfruttare per primi queste floride terre, ma fu grazie ai Basiliani che il borgo assunse una rinnovata centralità, grazie anche alla fertilità del territorio circostante. Loro, infatti, trasformarono questi terreni, prevalentemente occupati da boschi di querce, in oliveti. Con l'arrivo dei turchi, che saccheggiarono buona parte del territorio circostante, Anfiano venne abbandonato, divenendo per molto tempo un luogo disabitato. Parte della colpa della distruzione del borgo è da attribuirsi a tutti quegli improvvisati e ignoti cercatori di tesori che nel corso del tempo scavarono e saccheggiarono qua e là, nella speranza di trovare quel che qui in Salento viene chiamato acchiatura, ossia il tesoro.